A VIA A TUTTI I MII LEGIONARIO BARBAROZZI NONISCRITTI Non iscritti, iscriversi a fine video e invito a tutti voi a lasciare qua sotto un bel like e a condividere il video, nonché a commentare se avete consigli o suggerimenti. Vi ricordo inoltre di controllare la schermata della community per post come notizie ma anche sondaggi e inoltre vi ricordo anche di attivare la campanella che trovate sotto il video e anche sul canale per ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video. Ah, che bello. Scusate stavo guardando cosa supportava la Russia su porta delle indipendenze, ma che bravi. Che bravi i russi, tra l'altro stanno venendo arati malamente, ci sono tipo i polacchi che hanno, boh, forse 6.000 uomini, i russi ne hanno tipo 100.000, però mamma mia. Comunque alleanza ottomani-danesi assurda, a dir poco assurda. E nel frattempo c'è anche una guerra qua tra Lige e Cologne grazie al fatto che Lige ha il supporto francese, dannazione, dannazione. Tra l'altro gli ho dato il passaggio... ah, non so se è stata voluta come cosa. In ogni caso potrei anche toglierlo magari. Vabbè, sto facendo spy network un po', comunque stiamo cercando di convertire tutti e mettere da parte un po' di soldi prima di entrare in un nuovo conflitto. Ebbene sì, entreremo in conflitto contro gli olandesi. Tra l'altro, tra l'altro, io ogni tanto sto anche costruendo qualcosa, dato che so che abbiamo da aspettare un pochino, sto costruendo qualche chiesa e qualche edificio per ottenere più tasse e più tutto. Va bene, vediamo come procedono le cose. E tra l'altro, ti prego, dimmi che voi siete ancora solo alleati con Venezia. Sì, è così, molto molto bene. Va bene, e penso che nel giro di due anni, for due e mezzo al massimo, quindi per il 56 dichiareremo guerra. E mi sembra davvero un'ottima cosa. Sapete cosa, comunque? Dato che mi costa così tanto la tecnologia, dato che ho bisogno della nuova istituzione, mi sa che andiamo a farci la nuova idea, che almeno questa non è inflazionata, diciamo. E penso che ci andremo a fare anche la prossima, perché ci potrebbe dare un bonus per quanto riguarda i ribelli che non sarebbe per niente male. Pazzi, ragazzi, Ulm è diventata... è diventata cattolica? Mi fregano così. Ma che poi penso completamente a caso. Ah, no, sono cattolici, effettivamente. Sono alleati con Lundenberg e Memmingen. Ah, vedi, sti infami. Ma proprio quando... Basta non guardare un attimo, ragazzi, e bam, ti fregano così. Facciamo tornare un attimo il diplomatico dalla Russia e vediamo cosa comporterebbe un conflitto lampo contro di loro. Spero... Cioè, in teoria dovremmo riuscire a sconfiggere l'istenza problemi. Però, cioè, se potessi non entrare nel conflitto per questo, direi che sarei molto più contento. Ok, aha. Ah, 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 ah. Tra l'altro... Ah, i francesi sono diventati difensori della fede. Wow. Che delizia. Tra l'altro c'è un casino della miseria. È passata una macchina. No, era una moto, scusate. Vabbè, non importa. E allora non riesco ad attaccare Ulm. Ma a meno che... A meno che io non attacchi Lundenberg. Ok, magari no. O Memmingen. Memmingen ci starebbe. È una città libera. Il fatto è che non ho nessun casus belli contro di loro. Cioè, non gli dichiarerei guerra completamente a caso. Tra l'altro sarebbe anche gente a caso. Ma perché? Ma perché? Non me lo merito. Non me lo merito. Vabbè, non importa. Ok, lasciamo questi principi eretici che si scazzino loro. Bam, ragazzi. Contributi dei borghesi. Un po' di soldi non fanno mai male. Anche perché adesso finiamo in negativo con queste conversioni cattive. Cioè, guardate qua. 23 ducati. Anche questa costa 23 ducati. Li pago solo perché così almeno ce li leviamo dalle balle. Magari la smettono anche di cercare di ribellarsi. L'unità religiosa di sicuro ci darà un po' di bonus. Infatti, vedete che l'arresto è diminuito per questo. Chissà se lo portiamo al 100% se modifica questo fattore. Ce n'è solo una che non siamo in grado di confrattire che è Anziku. Probabilmente perché... Oh, scusatemi. Probabilmente è perché essendosi riformata è un casino. Eh sì, infatti, vedete. Zello religioso. Devo essersi convertita da poco. Giustamente c'erano gli olandesi prima. Adesso romperanno le balle a me. Ora che non ci sono gli olandesi. Infami. Ok ragazzi, nuova ideuzza. Toleranza della vera fede più due. Sbam! E speriamo che ci possa aiutare. Ho tra l'altro soppresso un po' di fazioni ribelli. Dato che al momento abbiamo tutti questi punti militari. E direi che la cosa può solamente farci bene. Tra l'altro non sto più facendo claim sugli ottomani uno perché ne abbiamo abbastanza. Direi che sono a sufficienza anche perché vorrò a Costantinopoli se dovessi entrare in conflitto con loro. Quindi non ha senso cercare di prendere altro. E anche perché così almeno ho un diplomatico che lavora sempre all'interno dell'impero dove Bremen sta cercando di non votare per noi. O perlomeno ci sta pensando e non devi neanche pensarci Bremen. Non si fa. Voti l'imperatore o voti l'imperatore? Volendo puoi votare l'imperatore. Se io mandassi questo, così quando finisce lo zelo religioso comincia a convertire, potrebbe servire a qualcosa? No. Li fa solo incazzare. Li fa solo incazzare. Zelo religioso dura fino al 1757. Beh, buono. Buono. Mi sembra un'ottima cosa. Anche perché questo in teoria dovrebbe ridurre le rivolte, infatti. Ok. Quindi se tutto va bene, no! L'imperatore è morto. Cioè, siamo stati rieletti, però dannazione. Saremo incoronati a Ulma. Cos'è? Una presa per il culo questa? Ma davvero? Ma davvero? C'è la regina consorte Giulio II, erede dell'impero. Wow. Alla grande. Mamma mia. Ah, beh, giusto. È vero che facciamo un po' schifo Giulio. E vabbè, non importa. Va bene comunque. Va bene comunque così. Dobbiamo migliorare tra l'altro le relazioni anche col palatinato. Ok. Però è anche vero che adesso dovremo rinnovare tutte le alleanze matrimoniali. E non lo faccio finché c'è la reggenza. Perché se no sono con la madre reggente. Scusate, se sto un attimo correndo in giro. Ok. Ha quasi gli anni per governare. Tra l'altro non potrò dichiarare guerra fino a che lui non potrà governare. Quindi, yeah. Yes. Yes. Cominciamo il drilling. Vediamo se finiamo in rosso. Non finiamo in rosso. Sono meravigliato e commosso da questo. Però sai che c'è. Meno 5. La legittimità. Aha. No. Per il momento declino. War Games. Non male. Perdiamo 300 Ducati. 2700 di Manpower. Guadagniamo prestigio. Prestigio come l'ho detto. Più Land Maintenance Modifier per 10 anni. Più Early Army Professionalism. Wow. Va bene. Dato che siamo decisamente in positivo, ci sta. Siamo anche a un nuovo livello di professionalismo. Fra poco avremo l'esercito completamente professionale. E devo dire che la cosa non mi dispiace per niente. Tra l'altro dove sono spariti quei 5.000 uomini? Ah, sono qua. E perché non sono andati a sud? Ah, giusto. Perché, vabbè, facciamo così. Ah, che bello. Vi giuro che vedere le truppe che rientrano là mi fa... Mi fa eccitare. Tantissimo. Dopo aver giocato così tanto EU in cui smadonnavo quando dovevi togliere 15.000 uomini e non ti rientrava nel Manpower. Questa aggiunta è bellissima. È una di quelle cose della serie... Oh, il DLC lo aggiunge, tra parentesi. Potevi non metterlo nel DLC, potevi metterlo normalmente. Però, escludendo questo fattore, dato che solo con il DLC lo ottieni è della serie... Non so se avete presente Futurama. Shut up and take my money. Una cosa del genere. Perché è decisamente molto utile. Signori, abbiamo convertito la Mecca. Mai credevo che sarebbe giunto questo giorno. E non è che lo desideravo ardentemente. Però è successo. E... Boh, bene. Particolare. Decisamente particolare. Tra l'altro ho pompato un po' la legittimità con i punti militari. Tanto se non ricordo male, penso di no. Siamo abbastanza avanti ancora nel tempo. Sì, infatti. E... Tanto ci serve prima questo. E... Ci vorrà ancora una vita. Perché l'istituzione, ragazzi... Tempo che si diffonde, davvero... Non dico che posso morire di vecchiaia, ma... Mi ci avvicino. Cioè qua, 1787. Hai voglia. Stiamo parlando, ragazzi, di un sacco di tempo. Stiamo parlando davvero di un sacco di tempo. Anche se qua, a quanto pare, ha cominciato a diffondersi. Devo dire che la cosa non mi dispiace per niente. Anzi, è vero. Non ce l'avevo pensato. Darò una mano anche a voi qua sotto. Darò una mano anche a voi qua sotto. Mettiamo l'editto dell'istituzione anche qua. Sì, perfetto. E facciamo anche in quelli che confinano. Perfetto. Qua, in Tunisia, l'ho messo in tutto questo. C'è un altro punto dove potrebbe valer la pena fare... No. Decisamente, assolutamente no. Va bene, non importa. Ci accontentiamo di quello. Facciamo finire questo missionario e siamo pronti per la guerra. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo convertito quelli che rimanevano. Se alzo il mantenimento siamo comunque strapposto. Se metto i forti, non proprio, ma con le tasse di guerra, sì. In ogni caso comincio ad alzare il mantenimento, così almeno dovremmo farcela benissimo. La regenza, tra l'altro, non finisce a 14 anni. Mi sono sbagliato. E guerra la posso dichiarare comunque? Oh, anche no. Fammi vedere. Sì, posso farlo. Posso farlo. E buono. Buono. La Spagna entrerebbe. Entrerebbe la Bohemia. Fatemi vedere. Ma posso vedere quanti favori ci dobbiamo qua in giro? Fiducia. Vabbè, facciamo entrare la Bohemia. Brema. Triera anche no. La Spagna. Secondo me non serve tirarla in questo conflitto. In ogni caso adesso fra pochissimo attacchiamo. Tra l'altro, fatemi vedere un po'. Ci sono ancora guerre all'interno dell'impero? Sì, giustamente. Ci sono quelli che stanno attacchando con l'estrema cattiveria. Va bene, va bene. Faccio passare qualche mesetto, così si riprendono le nostre truppe. Ah, giusto. Con il drilling cosa vuoi che si riprendano, Alessio? Con il drilling come vuoi che si riprendano? Hai ragione. Hai ragione. Va bene. Allora tiriamo giù tutto. Cioè, tiriamo giù. Togliamo il drilling e prepariamoci ad attaccare con estrema cattiveria. Allora ragazzi, direi che siamo pronti. Ho tolto il diplomatico che si trovava a Venezia, perché direi che a questo punto non ci serve più. E ho mandato, per la prima volta non l'ho mai fatto, un diplomatico a fare controspionaggio contro gli ottomani. E questo perché? Perché sembrano averci preso gusto, sinceramente, a, come dire, a romperci le balle. Sì, e questo è l'unico termine che posso utilizzare. Perché continuano a seminarci malcontenti. Dato che lo fanno ottomani e francesi, mando i due diplomatici a fare controspionaggio da tutti e due e pa! Arrangiatevi. Tra l'altro questi forti non li abbasso, perché l'ultima volta abbiamo visto gli irlandesi fare mosse assurde. E quindi non mi pare decisamente opportuno. In ogni caso, in ogni caso. Carissimi, si va. Si va. Dai, Triere, entra anche tu. Vieni a divertirti un po' con noi. O sei già in guerra, Triere? Non lo so. Però, allora, Brema non penso sia in guerra. Infatti non lo è. Triere? Io non so neanche dove si trova, dannazione. No, non è in guerra. Ma sì, allora, Triere, vieni a divertirti anche tu. Dai. Gioca con noi. Sembra una cosa molto allassò. Però, vabbè, sbamma. Sbamma e fatemi vedere un po'. Nouvelle Flandre. No. Olanda, 46.000 uomini. Venezia, più o meno, sia lì. Tra l'altro ho già posizionato tatticamente la nostra flotta qua sopra, in modo da magari beccarne qualcuno. Se è possibile. Vediamo se ci riesco. Forse qualche nave riesco anche a disintegrargliela. Adesso vediamo in un attimo. Tra l'altro, queste truppe io direi che possiamo fare una cosa del genere. I veneziani si sono infiltrati nella nostra amministrazione. Quei cattivi. Che cattivi che siete. Beh, abbiamo battuto una flotta veneziana. E però ho paura di avvicinarmi di più, sinceramente. Perché questa flotta qua mi fa tanta paura. Mi fa tanta paura, quindi per il momento la metto qua. Arrivano e niente. Vediamo se ce la prendiamo nel sedere o meno. Quanto è grossa sta flotta? E' tanto grossa. E' tanto grossa e l'ammiraglio è anche migliore. Vediamo come va. Speriamo in bene. Tra l'altro qua non sta succedendo niente di particolare. No, niente. Sono troppo forti. Sono troppo forti. Abbiamo perso 11 galè loro, 9 navi pesanti. Navi che io tra l'altro non ho ruolato. Un vero peccato. Un vero peccato. Vediamo se ci tengono ingabbiati qua. Probabilmente sì. Va bene. Va bene. Vediamo come si sviluppa le cose. Riuscirò a fugarmela secondo voi? Io ci provo. Ah, niente. Ci hanno ribecchiato. E io ricercherò di fuggire. Contro rivoluzione. Aiuto! Che male che ci hanno fatto. Che male. Niente. La loro flotta è indistruttibile. Ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. Non dovevo. Va bene. Ok. Sono cosciente di ciò e allora non farò più niente. Il saccheggio di Treviso? No. Perché dovresti saccheggiare Treviso? Professionalismo dell'esercito? Ah. Mmm. Migliori. Routine di pagamento. Disciplina più dura. Però viene saccheggiata. Anche se perdiamo un sacco di Ducati. Oppure la saccheggiano ancora più violentemente. Oppure perdiamo professionalismo. E guadagniamo Ducati. Guarda. Io faccio anche che li pago. Perché tanto mi ero dimenticato di mettere le World Taxes. E noi siamo in positivo così. Decisamente in positivo. Tra l'altro c'è morto pure il generale. A caso. Noi entriamo in guerra e muoiono i generali. Incredibile. Vabbè. Non importa. Non importa. Io direi facciamo un movimento di questo tipo. Vediamo se i veneziani vogliono fare qualcosa o meno. Non sembrano voler fare niente. Unlawful territory. Ah. La Francia. Spero che non abbia preso niente. No. Non dovrebbe averlo fatto. In compenso però posso chiedere l'unlawful territory. A questi simpaticoni. Ah. Guarda. E non me lo riderebbero. Anche perché ne hanno presi tre. Hanno distrutto Cologne praticamente. Anvedi. Perché sanno che la loro alleanza li proteggerebbe. E vabbè. Tenetevi. Di che cavolo vi devo dire. Nuovo duca. Giulio II Borgia. Ah. Che bello. Il fatto che non siamo ancora imperatori un po' mi urta. Però vabbè. Non importa. Ora direi che è giunto il momento di muovere i nostri eserciti a nord. E di insegnare qualcosina agli olandesi. Vediamo se ce la facciamo naturalmente. Perché non è detto. Giulio ha un tratto. Che mi sembrava molto buono. Aumentano i beni prodotti. Grande Giulio. Più soldi per tutti. Matrimonio con la Russia. Dai va bene. No anzi no. Abbiamo fin troppo i matrimoni reali. Scherzavo. Scherzavo. Va bene. Muoviamoci. Muoviamoci. E vediamo se riusciamo a disintegrare i nostri nemici. I francesi nel frattempo se ne stanno andando. Ok. Buono così. Ragazzi i veneziani sono impazziti. Hanno deciso che vogliono fare gli eroi. E pensano pure di sconfiggere un esercito boemo. E probabilmente non ce la faranno. Perché stanno arrivando i rinforzi. Io spero che i boemi li rispediscano a Venezia. Se no in ogni caso ci rioccuperemo di loro una volta che ci saremo occupati dell'Olanda. Che invaderò completamente naturalmente. Possiamo convertire Anziku. Molto bene. Molto bene Anziku. Sono fiero di te. E allora partiamo fin da subito. Perfetto. E ce la facciamo. Ok. Qua in non molto dovremmo riuscire a far cadere tutta l'Olanda abbastanza facilmente. Ok ragazzi. L'Olanda è andata. Adesso dobbiamo tornare a dare una batosta ai veneziani. Non preoccupatevi. In realtà non avevano vinto. Sono stati anzi legnati pesantemente dai boemi. Ma hanno deciso che ci vogliono riprovare. E che ci riprovino ragazzi. Meglio. Più punti per noi. È l'unico modo in cui li posso ottenere se non riesco ad andare a Venezia. Dispiace ragazzi. Speravo di riuscirci con la flottina che avevo fatto su. E invece no. E invece no. Vabbè. Ci toccherà stare in guerra un po'. E speriamo di farcela. Se chiedo Venezia però mi dice. La vuoi senza aver occupato nessun territorio nell'aria. Molto male. Cioè molto male. Vabbè. Facciamo tornare le nostre truppe e vediamo come va. Bam ragazzi. Abbiamo becchiato i veneziani. E gliele stiamo dando. Sono riusciti a scappare. Però noi adesso ci rimettiamo ad assediare Treviso. Sperando che Trier non si prenda il punteggio di guerra. Facciamo tornare le nostre truppe qua. E adesso la guerra dovrebbe essere in mano nostra. Anche perché gli olandesi sono scomparsi. Non esistono più. Probabilmente ci sono solo le loro colonie. E non sembrano essere stati in grado di fare alcun tipo di contrattacco. Mi chiedo sinceramente dove sia finito il loro esercito. Perché so che hanno un esercito. Ma non so dove sia questo esercito. Tra l'altro la Nouvelle France è molto inquietante. Devo dire. Ma particolarmente. Particolarmente inquietante. Tra l'altro dove cavolo è scappato l'esercito veneziano? Ah qua. Benissimo benissimo. Fatemi vedere un attimo l'assedio. Posso vederlo? Stanno attaccando loro. Bremen. Peccato. Peccato. Olè ragazzi. Abbiamo un'erede. 2-4-1. Non male. Girolamo direi anche no. E questo lo chiameremo Cesare. Proprio molto banalmente. Et voilà. Una consorte ottima mamma mia. Meglio la consorte del marito. Caspita. Caspita. Dà pure più disciplina. Vabbè. Ok. Siamo riusciti a prenderci tre viso. Buono. A sto punto io direi che la mossa migliore può essere... Vabbè. Facciamo spostare questi. Può essere tipo tenere le truppe qua in zona pronte ad attaccare. E nel momento in cui i veneziani cercano di tornare noi li disintegriamo. Tra l'altro faccio anche un embargo a Venezia e voglio vedere cosa riescono a fare. Cioè in teoria hanno tutto protetto però vediamo se può servire a qualcosa. Allora ragazzi ho appena chiesto ai vari lettori di trasferirmi un po' di trade power. E' intrigante, intrigante. Tanto sono i rapporti con tutti loro. E Bremen, Trier, Svizzera e Palatinato me lo trasferiranno. Buono perché aumenteranno i nostri nitroiti in teoria. E tra l'altro io direi che per questo video ci possiamo fermare qua. Perché penso che abbiamo raggiunto il time limit diciamo. I 21 minuti. Magari stanno anche tornando loro. Tra l'altro coi veneziani ragazzi io ci provo ma Venezia a quanto pare non posso prendergliela. E tra l'altro non accetterebbero di cederemi niente. Va bene mi tocca chiedergli a loro i territori. Aspetta. Io però se li chiedo a loro non posso. Non posso chiederla perché non è controllata da nessuno. Va bene in ogni caso potrei fare una cosa di questo tipo. Se il limito a Venezia è il controllo sul mare, di sicuro, cioè il controllo sul mare del golfo, di sicuro posso solo avvantaggiarmi. Se riusciamo a prendere più punti però non sarebbe per niente male. Forzare la religione agli olandesi è una cosa che non ci provo nemmeno. Tanto non penso sia facilmente raggiungibile. E possono rilasciare qualcosa i nostri amiconi? Sì, volendo potrebbero rilasciare una nazione. Il problema è che rilascierebbero una nazione probabilmente perché se la mangi il Lige. Quindi forse preferisco avere loro qua. In ogni caso come al solito spero che il video vi sia piaciuto. E a via tutti i legionari, ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie. Grazie.